Si allarga nel territorio aquilano la piaga della dipendenza dal gioco d'azzardo. Dieci nuovi casi si sono aggiunti nel 2015, ai 26 già in carico dall'anno prima la CERT dell'ASL dell'Aquila, che ha deciso così di potenziare la sua attività di prevenzione, intervenendo in particolare su ragazzi adolescenti. La ASL, ha spiegato alla dirigente del servizio Daniela Spaziani, ha scelto di portare nelle scuole la testimonianza di pazienti usciti dal tunnel delle dipendenze o che sono in fase di recupero, dipendenza dal gioco, da alcol o da cannabinoidi. E così l'abisso e poi la risalita è stato raccontato davanti ai ragazzi delle medie e da persone che ci hanno messo la faccia. Il lavoro, su studenti di 11 e 13 anni, è stato portato avanti nei piccoli comuni e nei paesi decentrati del capoluogo regionale, San Demetrio Nevestini, San Pio delle Camere, Barisciano e Capestrano. Delle patologie legate al gioco d'azzardo si è parlato in particolare a San Pio delle Camere con 22 alunni di scuola media. Il gioco d'azzardo, spiega Spaziani, oltre a essere in continuamento, è un disturbo molto più ampio di quello rappresentato dai numeri perché notevolmente sottovalutato. Tanti rinunciano a curarsi sia per la vergogna di uscire dallo scoperto, sia per la falsa credenza che si può smettere in qualunque momento, trattandosi di una dipendenza senza sostanza. Le problematiche correlate all'uso di cannabinoidi e ai consumi eccessivi di alcol, invece, sono state esaminate a Barisciano con venti dei ragazzi delle seconde e terze medie. Su questo fronte vi sono molti campanelli di allarme. Si sta abbassando l'età delle prime ubriacature che avvengono oggi a 11 anni e il consumo di cannabis diffuso tra ragazzi di 13 anni. Nel 2014 il CERT ha seguito 156 pazienti per alcol e 313 per droga, per complessivi 469 utenti. Gli operatori della ASLA, da gennaio a maggio del 2015, hanno coinvolto negli incontri di prevenzione più di 100 allievi nelle scuole medie inferiori del territorio e più di 90 studenti dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci Colecchi dell'Aquila, oltre a numerosissimi insegnanti. Le testimonianze con pazienti in fase di recupero, conclude la Spaziani, sono state molto apprezzate da ragazzi e docenti. Ogni confronto si è concluso con tantissime domande poste dai giovani e con un dibattito costruttivo che si è tradotto in indicazioni sui lavori didattici da svolgere a scuola.